Ciao amici, oggi stiamo qui in mezzo all'orto a raccogliere le melanzane per fare le colpette di melanzane. Andiamo al rapporto. Si ritiene che la melanzana abbia un'origine indiana e cinese. Paesi dove da millenni venivano coltivati e apprezzati sia in cucina sia come pianta medicinale. Per moltissimo tempo le melanzane rimassero confinate nei paesi di origine. Furono gli arabi nel 300 a scoprirle e a diffonderle in Medio Oriente e in Europa dove divennero apprezzatissime mentre in Italia furono introdotte nel corso del secolo successivo. La melanzana è un ortaggio dalle molte proprietà e dai numerosi benefici sull'organismo grazie all'elevata quantità d'acqua che contengono. Le melanzane hanno effetti diuretici e drenanti. Sono ricchi di minerali, potassio, magnesio, fosforo e di vitamine A, B e C. Sopportano il fegato stimolando la produzione di pille e hanno anche un potere antiossidante. La medicina popolare le reputa dotate di importanti proprietà antinfiammatori. Siccome sono veramente tantissime queste melanzane, lo facciamo anche melanzane sotto olio senza cottura. Ma al prossimo video. Eccoci in cucina. Ora prepariamo le polpette di melanzane vegetariane. Le ingredienti sono le nostre belle melanzane appena raccolte. Mezzo bicchiere di vino bianco da tavola. Tre spicchi di agno, tre cucchiaio di pan grattato, un uovo, un pizzico di origano, un pizzico di timo, sale, un cucchiaio di amido e prezzemolo. Ora pogliamo, tagliamo e togliamo la buccia e tagliamo a pizzettini. Adesso togliamo la buccia. Dopo che abbiamo tolto la buccia, adesso tagliamo a pizzettini. Mano a mano che tagliamo a pizzettini, mettiamo anche un po' di sale per togliere la mano. amaro. Poi dopo laviamo. Adesso le laviamo e poi dopo frulliamo. Prima di lavarle, le primiamo bene, così esce la mano. e poi facciamo un po' di sale per la buccia. e mettiamo un po' di vino. Mettiamo tutto il vino. Mettiamo aglio. Non bisogna frullare tutto come una farina, no, deve essere qualche pezzettino leggermente frullato. Togliamo adesso e mettiamo... Mettiamo... Mettiamo origano. Timo. Poco 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 di sale perché già è salato. Uova. Amido di mais. e panggratato. E panggratato. E panggratato. E un po' di prezzemolo. Togliamo. Togliamo pezzettini. Togliamo pezzettini. L'impasto del polpetti di melinsano è pronto. Adesso passiamo al fuoco. Prendiamo una padella antiaderente. E mettiamo un poco di olio. Poco poco. Quando l'olio è caldo mettiamo le polpette di melinsano. costruimato. Compizzare una padella. Aggiungare una padella. E는 pioggia. E poi, la tua padella che fa la pata. Acidate. Prendiamo un piccolo saldino. Prendiamo l'olio. Prendiamo un piccolo saldino. Hovite la padella. Uno panorato. Prendiamo un piccolo saldino. i nostri polpetti di milenzani vegetariani sono pronti ora assaggiamo buonissimo mettiamo un po' di salsa buonissimo ciao al prossimo video lunga vita a tutti lunga vita a tutti